Ovviamente abbiamo votato contro perché riteniamo che le aziende pubbliche non debbano fare così tanti utili, contando anche il fatto che metà sono andati a finire in tasse e invece devono ridurre le tariffe e aumentare i servizi e gli investimenti. Ma ritengo che dietro questo aumento degli utili così sconsiderato ci sia una strategia politica di vendita dell'azienda Aset, anche perché i ritardi della fusione non sono più giustificabili altrimenti con nessun altro tipo di scusa, fusione che aspettavamo per il 30 giugno posticipata invece al prossimo gennaio, quindi si posticipa di sei mesi in sei mesi. E riteniamo che ci sia una regia occulta dietro a questa operazione dell'aumento degli utili che aumenterebbe di fatto il valore di Aset qualora dovesse aprirsi una trattativa ufficiale, che invece secondo noi c'è ma non è ufficiale, con marche multiservizi ed era per la vendita delle quote di Aset. Tutto quello che avevamo pensato, scongiurato negli anni scorsi e che invece abbiamo continuato a pensare in questi mesi di amministrazione serie, soprattutto delle pressioni del PD nei confronti di questa amministrazione che vuole l'Aset dentro marche multiservizi era.